Inizia il film! Io no. Oh mio Dio, oh mio Dio, che piccolo colo! Che piccolo colo! E il culo! Ma vi state solo spingendo, non te colpite. Vi colpite e basta! Che paura! Che paura! Pensate che le mie scherpe sono becche! Ah, scusate! Un bambino o un ragazzo che si prende una botte, perché l'altro gli ha rubato i soldi e l'altro è cagato! Tre! Sto per finire! Due! Uno! Adesso non farei su Facebook! Ok! Tre! Due! Guarda il mio papà! Si da piedi anche picchia qualcuno! E... Aspetta, state lì davanti, state lì davanti! Non picchiatevi! Signore e signore, vi presentiamo gli autori che hanno fatto! Sebi... No papà! Voi devi dare! Papà! Voi devi dare! Sebi san! Via! Ah! Si picchiano! Si volvano! Vi presentiamo una persona che ha fatto il video! Papà! E lui sta cagando! Sì! Sì! E... No! Per cavolo! Apri! Oh mio Dio! Poi eccolo qua! Sebi! Anche lui ha fatto parte del film! Mentre caga però!